Verbania, presentato il Natale diffuso, oltre 70 gli appuntamenti per grandi e piccini predisposti da amministrazione comunale e associazioni, e poi le proiezioni in realtà aumentata su palazzi e monumenti, le classiche luminarie, le visite di Babbo e Befana, la gara tra commercianti per la vetrina più bella, il passaporto di Natale per i piccini, e ancora, la festa di Capodanno a Pallanza, Vimbrulè e Panettoni. Grazie per la visione!